Ben ritrovati al nostro confronto elettorale per le prossime amministrative del 10 giugno. Oggi incontriamo i candidati sindaci del comune di ACI Sant'Antonio in provincia di Catania. Cominciamo con Santo Caruso, aria centro-sinistra, sindaco uscente e si ricandida per la seconda volta. Grazie di essere qui. Ancora Antonio Di Stefano che ha ricamato a sé il centro-destra. Grazie. Buonasera. Raimondo Ferlito, il designato dal Movimento 5 Stelle. Grazie anche a lei di essere qui. E Giuseppe Michalizzi che è con la lista Movimento Sant'Antonese. Grazie ancora a lei. Buonasera. Allora, tre domande a testa, due minuti ad ognuno per par condizio. Iniziamo ovviamente dal sindaco uscente perché dovrebbero rivotare per lei. Buonasera e grazie di averci invitato. Ovviamente un'amministrazione, un sindaco uscente viene da cinque anni di governo della città e quindi chiedo ai cittadini di rivotarmi perché bisogna continuare l'azione amministrativa che è stata fatta fino adesso. Ovviamente abbiamo passato cinque anni un po' particolari perché un comune che ha trovato una situazione disastrosa dal punto di vista delle finanze siamo riusciti a risanare, siamo riusciti a riemergere e l'altro giorno, rivedendo un po' il programma che abbiamo stilato cinque anni fa, ci siamo accorti che una buona parte di quel programma l'abbiamo realizzato. Quindi oggi io mi ripropongo con l'entusiasmo di cinque anni fa e soprattutto con la voglia di continuare questa azione che è stata un'azione forte, mirata e soprattutto un'azione di coesione da parte di tutti perché il sindaco ha bisogno di una squadra, ho avuto la fortuna di avere anche un'ottima squadra che per la maggior parte sarà presente in questa tornata elettorale. Quindi abbiamo bisogno di chiedere ai cittadini quella fiducia che ci permetterà di dire che Agis Sant'Antonio ha raggiunto quella normalità che tanti ci aspettavamo e oggi possiamo dimostrare con i fatti. Come in tutte le cose bisogna dare un minimo di continuità in quello che si è fatto. Io sono convinto che l'azione amministrativa deve avere anche una durata tale che possa permettere di dire che si può e si deve fare. I cittadini sicuramente ci daranno il giudizio di quello che oggi abbiamo fatto e quindi sono convinto che ci potranno dare la fiducia che tutti ci aspettiamo. E invece Antonio Di Stefano per il centro-destra, perché dovrebbero invece votare per lei? Sì, grazie. Buonasera a tutti. Il motivo principale è perché chiunque di noi si scommetta è perché ama il proprio paese. Quel paese che mi ha visto crescere e che mi ha visto fare impresa sin da giovane e da tre generazioni. Perché oggi rappresento la sintesi di un processo che ha portato alla classe politica sant'antonese, espressione di tutto il centro-destra, a confluire su un'immagine di un giovane, di un giovane, come ripeto a dire, sant'antonese, che sia un'espressione dinamica, sia un'espressione vincente, sia un'espressione umile alla portata di tutti. In più, mi permetto di aggiungere che la squadra delle coalizioni è una squadra molto qualificata, è una squadra di gente che ha dimostrato in questo passaggio una linearità, una serietà, una coerenza di pensiero che molti non credevano potessero dimostrare. Abbiamo detto voglia di fare, amiamo questo paese e crediamo effettivamente che le nostre idee, la nostra progettualità possa portare alla decisione di Sant'Antonio quello spunto che possa dare a quest'anima morta, che ormai è diventata il paese di Sant'Antonio, uno sprint finale e poterci far rivivere momenti gloriosi, momenti che praticamente ormai da tempo non abbiamo più. La squadra è una squadra di persone professionali, persone che si sono scommesse in prima persona, persone che si sono sempre identificate in la G. Sant'Antonio e che hanno la classe e la stoffa per poter portare avanti questa macchina amministrativa. Ovviamente il sindaco parla di un progetto che inizia e che deve finire e questo magari mi trova abbastanza concorde, ma spero che questa azione possa finire con la mia candidatura e riniziare una fase nuova. Ok, adesso stessa domanda, perché dovrebbero votare invece Raimondo Ferlito? Sì, buonasera a tutti. Noi ci rivolgiamo ai cittadini di A. Sant'Antonio con umiltà e con grande senso di responsabilità. Noi vogliamo arrivare al governo della città e non abbiamo nessuna intenzione, i ragazzi che compongono la lista, di rincorrere poltrone o in carichi particolari. Noi vogliamo solo ed esclusivamente il bene della nostra città di A. Sant'Antonio. E infatti la lista del Movimento 5 Stelle si presenta unita una sola lista che accompagna la candidatura del sindaco. Questo perché non dobbiamo fare accordi di nessun genere con quello che potrebbero essere le tantissime candidature che solitamente accompagnano gli altri competitor. Noi, il nostro unico obiettivo è quello di iniziare una lunga semina per A. Sant'Antonio. Una semina, naturalmente per poter seminare bisogna preparare il terreno e questo terreno va scardinato da quelle zolle aride per poi intervenire appunto con questa semina e i nostri semi sono la legalità, l'onestà, la trasparenza negli atti amministrativi, la condivisione di quello che può essere una scelta a volte anche con sacrifici di un indirizzo politico. Però è importante che il cittadino sia sempre coinvolto in queste decisioni e in questa semina. Chiaramente ci rivolgiamo a tutte le forze e a tutti i componenti della vita di A. Sant'Antonio e soprattutto alle scuole perché da là deve iniziare questa semina. Giuseppe Michelizzi, stessa domanda anche per lei perché dovrebbero votare Giuseppe Michelizzi. Innanzitutto buonasera e grazie. Mi scuso per la voce ma purtroppo mi ha colpito l'influenza. Allora niente, Giuseppe Michelizzi rappresenta il futuro, Giuseppe Michelizzi rappresenta il nuovo, Giuseppe Michelizzi rappresenta il cittadino che non ha la necessità di farsi supportare da tutto il paese per poter arrivare al raggiungimento dello scopo. Non ha in realtà uno scopo ma in realtà è colui che ha l'intenzione, quindi il cittadino che ha l'intenzione di metterci la faccia e poter gestire insieme agli altri cittadini un paese che ha tante problematiche ma che ha tanto da offrire. Noi di fatto abbiamo l'intenzione di programmare insieme al cittadino e di creare un futuro diverso, un futuro che fondamentalmente non è mai stato preso in considerazione, un futuro che possa dare al paese un nuovo lustro, quello che fondamentalmente è mancato in questi ultimi 30 anni. Abbiamo la necessità di riaprire quelle che sono le porte della rinascita perché Agi San Antonio ha la necessità di crescere, di accrescere e di poter mostrare tutte le potenzialità, potenzialità che sono nascoste, represse molto spesso da una paura probabilmente anche politica perché no, che possa però in questo caso rompere gli induggi e quindi essere noi il tramite per poter dare ad Agi San Antonio, al cittadino e quindi a tutte le forze che può avere un paese con grandi prospettive, questo è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo sarà quello di governare insieme al cittadino, quindi non essere il primo cittadino del nulla ma bensì essere il primo cittadino insieme ai cittadini. Quindi fondamentalmente andare a creare quello che è il futuro geniale, il futuro delle idee, il futuro che possa essere concreto insieme al cittadino. Bene, adesso andiamo alla seconda domanda. Ricordiamo ovviamente dal sindaco uscente Santo Caruso. Vorrei sapere, soprattutto lo vogliono sapere i nostri telespettatori, quali sono i punti basi del suo programma e se in questo ci sono anche le periferie. Allora, sul programma, come dicevo poco fa, abbiamo fatto abbastanza e stiamo ripartendo da quello che abbiamo fatto. Un'amministrazione che ha governato, come in tutti i momenti, fa uno step e si ripropone per poter fare quello che è rimasto da fare, giungendo ovviamente quello che possiamo ancora e dobbiamo fare per i nostri cittadini. Ha detto bene, noi abbiamo quattro frazioni, il nostro paese ha un'estensione abbastanza considerevole ed ha quattro frazioni, di cui la frazione di Santa Maria della Stella è una frazione che ha circa 7 mila abitanti, quindi è una frazione abbastanza numerosa, che sconda purtroppo il gap di essere stata per molto tempo dimenticata. quindi bisogna un po' essere più presenti, bisogna continuare l'azione che abbiamo fatto fino adesso e soprattutto puntare a cercare di creare dei centri di aggregazione. Noi metteremo come punto fondamentale nel nostro programma la creazione di centri di aggregazione e col potenziamento necessario da parte del Corpo dei Vigili Urbani prevedere un presidio costante per la frazione. Ovviamente c'è ancora da fare tanto, abbiamo fatto una conquista importante, che è quella delle scuole, abbiamo attenzionato le scuole, stiamo riqualificando la piazza anche se l'imitrofa a Santa Maria della Stella ha la peculiarità di avere una piazza a metà sul territorio di Sant'Antonio e metà sul territorio dei Cerali. Quindi sulla nostra parte stiamo riqualificando la piazza, dobbiamo creare dei parcheggi. Ovviamente oltre a Santa Maria della Stella abbiamo anche Lavinaio e soprattutto sul Lavinaio stiamo puntando alla creazione di una nuova scuola. Lavinaio sta crescendo, sta crescendo bene, abbiamo Lavina e abbiamo anche Monterosso. C'è tanto da fare, siamo pronti a fare tanto. Antonio Di Stefano, punti basilare il suo programma e che cosa avete intenzione di fare anche voi per le frazioni? Allora, un'amministrazione attenta e un'amministrazione che vuole bene al territorio deve innanzitutto garantire l'ordinaria amministrazione. Credo che in questi ultimi cinque anni, ahimè, sia stato fatto ben poco per le frazioni. Riconosco al sindaco Caruso una iperattività nell'ultimo mese che ovviamente mi permette di dire che sia propedeutica all'elezione del 10 di giugno, ma le persone sanno che da quattro anni e otto mesi e nove mesi le frazioni sono state abbandonate. Credo che sia doveroso per le frazioni avere un presidio che rappresenti il comune, che rappresenti i servizi del cittadino, che rappresenti un posto in cui ogni cittadino vada a segnalare i problemi che possono nascere sul territorio. Quindi sono fondamentali per noi le delegazioni comunali. Delegazioni comunali che devono ospitare settimanalmente assessore e sindaco per valorizzare il territorio in modo che le persone si sentino vicini all'amministrazione comunale, non devono sentirsi dimenticate come è stato fino ad ora. Quindi niente di particolare, niente di fuori dal normale. Credo che si debba pure mettere sul banco un piano di opere a medio, a breve, a medio e a lungo termine, perché se lei guarda o le persone che ci stanno ascoltando dalla casa vedono la condizione in cui le strade o addirittura, mi permetto di dire, la pubblica illuminazione che in certi punti è totalmente carente e in altri ancora da completare o, mi permetto di dire, la rete idrica che praticamente o non funziona o ha delle carenze veramente paradossali. Questo è quello che praticamente un sindaco dovrebbe, come dire, prospettare, programmare per la sua città e a maggior ragione per queste frazioni che sono state negli ultimi anni dimenticate. Grazie. Raimondo Ferlito. Sì. Noi abbiamo stilato un programma che già è da qualche settimana sui social dove questi punti che appena sono stati elencati dal sindaco uscente e dal collega Di Stefano già sono stati scritti e riscritti. Chiaramente concordo pienamente sul fatto che è stata abbandonata, quello ha detto il sindaco, le frazioni da parecchio tempo e chiaramente anche negli ultimi cinque anni. noi il primo punto, e l'ho già espresso, che faremo quando andremo al governo della città è quello di fare immediatamente entro agosto una delegazione comunale a Santa Maria la Stella che deve ricoprire tutte le frazioni che insistono in quel territorio. chiaramente questa delegazione deve avere un presidio di vigili urbani. Abbiamo già anche individuato dove farla, che magari poi successivamente in altre occasioni ne discuterò. Questo per fare in modo che i cittadini abbiano sempre una istituzione al loro fianco perché tutti i diritti che i cittadini devono pretendere da un'amministrazione li devono pretendere appunto dalle istituzioni. Quindi questa è la cosa fondamentale. Per quanto riguarda il programma noi l'abbiamo suddiviso in quattro aree tematiche che sono l'area economica amministrativa, l'area delle attività produttive, l'area urbanistica e lavori pubblici e il servizio alle persone. Questo è quello a cui tengo tantissimo perché per noi tendere la mano a chi purtroppo sta indietro rispetto a noi è fondamentale e il comune, le istituzioni si devono far sentire fortemente per dare una mano a chi resta indietro, ai ragazzini disabili, a tutte quelle fasce sociali più deboli che devono trovare nelle istituzioni una mano amica che li accompagni. Giuseppe Michelizzi. Noi siamo sempre il rinnovamento, il rinnovamento della polis in primi, non sembra un gioco di parole ma è latino perché bisogna cambiare proprio il modus operandi della politica che si è intrapresa fino ad oggi. Noi cercheremo di distruggere questo muro che separa il cittadino dalla politica per essere appunto un tutt'uno. oltre questo noi ovviamente rinnoveremo anche quello che è il territorio perché il territorio inteso come sviluppo, sviluppo dell'economia perché l'economia purtroppo a Dagi San Antonio si è fermata. Noi cercheremo di incentivarla con sistemi che possano essere consoni per il chilometro zero. Cosa significa? Fondamentalmente fare una scheda punti per chi acquista nel paese in modo da poter incentivare l'acquisto nel paese. Ci sarà ovviamente anche uno sviluppo del territorio perché il territorio come dicevo è vasto e dà tanto, può dare tanto per cui il territorio è fondamentale che venga preso e messo al centro di quello che è l'attenzione per poter crescere insieme al paese. Ci sarà anche lo sviluppo culturale perché Dagi San Antonio ha una grande cultura, una grande storia questo sviluppo che andrà curato con i giovani e gli anziani insieme perché appunto gli anziani sono la storia del paese, il giovane e il futuro per cui potendoli unire l'uno all'altro e quindi cercando di far trapassare quello che potrebbe essere la storia, la cultura, l'arte che era chiusa nel San Antonio sicuramente darà un apporto per il futuro prossimo. Oltre a questo avremo anche lo sviluppo fondamentale del turismo perché il turismo è un associarci a tutto quello che già è stato detto in precedenza. Noi abbiamo la fortuna di avere un programma elastico, un programma aperto che può dare nel corso degli anni anche un input continuo al cittadino. Adesso vorrei chiedere al sindaco Caruso nel caso in cui venisse rieletto quale sarebbe il primo atto che lui farebbe? Un sindaco sciente spera di continuare quello che già è intrapreso quindi i primi atti che faremo saranno gli atti che daranno continuità all'azione amministrativa fino ad ora portata avanti. Ovviamente continueremo sull'azione di risanamento perché il Comune di San Antonio ha superato un periodo difficile e come in tutte le cose ora c'è un periodo ovviamente per stabilizzare tutto e quindi cercheremo soprattutto di poter far sì che si possa ottenere una forma di abbassamento anche dei tributi locali perché durante il periodo del dissesto siamo stati costretti a mantenere le tasse al massimo. Oggi c'è questa possibilità avendo risanato tutto già l'abbiamo dimostrato con un atto che ci ha permesso fin da ora di poter abbassare le tasse abbiamo abbassato i diritti di segreteria per chi va a costruire quindi quello che riguarda l'urbanistica. Ovviamente tutto questo passa attraverso un'ottimizzazione un potenziamento anche della struttura amministrativa e soprattutto della classe degli impiegati perché noi possiamo dare le risposte se abbiamo alle spalle persone che ci aiutano, persone che fanno della professionalità e soprattutto del lavoro un punto indispensabile nel modo di vedere anche loro l'azione politica che viene fatta e noi quindi punteremo soprattutto a dare ore a chi è part time perché è normale che persone che sono part time abbiano e devono far sì che abbiano le ore giuste per poter lavorare in modo dignitoso anche per incrementare il salario faremo in modo di incentivare le professionalità e ce ne abbiamo tante all'interno con l'attivazione di percorsi di progressione verticale ovviamente faremo i concorsi perché è normale dare priorità soprattutto al settore della pulizia municipale. Perfetto, allora Antonio Di Stefano nel caso in cui venisse eletto quale sarebbe il suo primo atto? nel caso in cui venisse eletto il primo atto che andrei a fare è ovviamente ridurre in maniera sostanziale il carico fiscale alle persone pur tenendo ben salda l'idea di tenere sempre quei servizi indispensabili tenendo in considerazione il diritto allo studio, l'assistenza agli anziani un'altra cosa che mi permetto di dire e che Agis San Antonio necessita è quella di sbloccare dopo 27-28 anni il primo regolatore generale che potrebbe permettere ad Agis San Antonio di rinascere, ricrescere e di ampliarsi e quindi creare occupazione, lavoro e far rinascere per quel principio che dico sempre io far rinascere nel sant'antonese quella voglia e quell'attaccamento ad Agis San Antonio che purtroppo io personalmente e tutta la coalizione che mi sostiene ritiene che non c'è più le persone di San Antonio non si sentono coinvolti nella vita sociale del paese si sentono ospiti perché non avendo i servizi fondamentali, non avendo strade percorribili non avendo, come dicevo prima, quei servizi primari spesso si sentono trascurate, quindi non si attaccano al territorio non attaccandosi al territorio si spostano si spostano nelle città vicine quindi si impoverisce il territorio e diventa sempre più un dormitorio quindi far rinascere quest'anima ormai morta di Agis San Antonio è una delle nostre priorità ovviamente altre priorità ci sono l'aggregazione giovanile è un po' latente ad Agis San Antonio quindi punteremo molto sul fatto che i giovani debbano come dire, muoversi, spendersi ad Agis San Antonio stessa ci farebbe piacere coinvolgere di più gli anziani nella terza età e assieme ai giovani poi le farò rispondere, risponderemo sul piano regolatore perché ho visto il sindaco che non era molto non condivideva la risposta riguardo al piano regolatore però terminiamo ovviamente il giro ovviamente gli altri candidati perché siamo curiosi di sapere Raimondo Ferlito cosa farà o farebbe nel caso in cui venisse eletto allora il primo atto appunto l'ho già detto lo ripeto è quello della delegazione comunale poi lo sblocco sul piano regolatore generale però su Santa Maria la Stella perché quello è fondamentale che va sbloccato perché Santa Maria la Stella appunto credo che sia dal 90 o dal 91 ora non voglio sbagliare però è da allora che non ha un piano regolatore e quindi soffre tantissimo questa carenza ovviamente altre cose priorità ce ne sono un'infinità è chiaro che prima bisogna andare anche a vedere e a valutare quello che in qualche modo si trova all'interno della macchina burocratica per poter poi andare ad incidere profondamente sul cambiamento la cosa fondamentale è che i cittadini devono sapere che noi lavoreremo a carte scoperte noi lavoreremo sempre con la massima trasparenza e ogni qualsiasi atto qualsiasi azione rivolta a loro loro saranno i primi a saperla eventualmente ad intervenire e a condividerla se di loro gradimento un'altra cosa fondamentale è quella di un bus navetta tra le frazioni e il centro cittadino e il cimitero perché è vero che ormai tutti quanti ci spostiamo in macchina i nostri figli hanno di scooter però le persone anziane le persone che possibilmente non hanno questa possibilità di muoversi facilmente pagano questa carenza questa mancanza quindi creare dei bus navetta magari utilizzando lo stesso scuola bus che in questo momento insiste su ACI San Antonio nelle ore si programma una fascia oraria dove si possa appunto in qualche modo la rete di ACI San Antonio coprirla per dare questo ulteriore servizio Giuseppe Nicanizzi Sicuramente ringrazieremo i sostenitori che hanno voluto la nostra ascesa chiamiamola così ma la cosa fondamentale è quella di aprire il palazzo di città sederci insieme ai cittadini e cercare di capire quali sono le esigenze primarie e quindi insieme cercare di poter portare avanti quelle che sono le esigenze di coloro che realmente ne soffrono perché poi chi tocca con mano è colui che realmente ti può dare l'input di inizio di quello che è un'amministrazione sicuramente un atto dovuto sarà quello di controllare le casse del comune perché dopo un dissesto sicuramente c'è da controllare e verificare i conti e lì in quel caso se realmente tutto dovesse funzionare per come il nostro sindaco sta dicendo 100% andremo ad abbassare le tasse perché è una cosa che è dovuta in quel caso dopo questi 5 anni di sofferenza a questo ovviamente dovremo poi cercare di portare a termine quell'angosciante mancanza d'acqua che nel 2018 è una cosa che purtroppo non è neanche discutibile per cui andremo a cercare di creare delle conferenze di servizi con Acoset, con gli altri comuni per cercare di capire se realmente cambiando tubazioni o cercando di poter mettere qualche altra soluzione per poter comunque dare l'acqua fondamentale per i cittadini oltre questo sicuramente andremo a incentivare quelle che sono le frazioni perché Santa Maria della Stella, Monte Rosso, Lavinaio, Lavina che comunque rimane quella piccola porzione di Pennisi sono delle frazioni che necessitano di tanto lavoro ma la cosa primaria che dobbiamo fare in tutto il territorio è la normale amministrazione perché noi dobbiamo assicurare al cittadino che se in questi anni ha pagato delle tasse quindi del denaro devono essere obbligatoriamente forniti i servizi in modo tale da poter proseguire quantomeno nel giusto che gli tocchi quindi quello che può essere la pulizia delle strade la pulizia continua di quello che è il sistema della differenziata cercare di mettere anche nelle frazioni una zona dove poter farla differenziata anche per loro poi progetti tantissimi Sindaco uscente ovviamente il Sindaco Caruso abbiamo toccato il piano regolatore lei in qualche maniera non è stato d'accordo in che cosa? non posso essere d'accordo sul fatto che oggi San Antonio non ha un piano regolatore da 27 anni è giustamente specificato che la frazione di San Antonio della Stella perché il piano regolatore è stato approvato nel 91 quella frazione è stata stralciata assieme ad altre zone oggi già iniziamo una fase di revisione del piano regolatore quindi è chiaro ed evidente che il piano regolatore ce l'abbiamo avuto siamo stati uno dei pochi comuni ad avere il piano regolatore operante oggi abbiamo un piano regolatore che è revisione si costruisce lo stesso in alcune zone e siamo in una fase in cui bisogna solo approvare un progetto definitivo il progetto prima è stato fatto è stata rilasciata la VAS che è uno studio che la Regione autorizza per il propedeuto dell'approvazione del progetto definitivo quindi siamo quasi in direttura d'arrivo per dotare il nostro comune di una revisione del piano regolatore in particolare San Antonio della Stella di un piano regolatore che purtroppo è stato stracciato all'epoca dell'approvazione del 91 per quanto riguarda gli altri ovviamente punti che riguarda soprattutto l'acqua è facile fare demagogia noi facciamo parte di un consorzio volevo invitare i nostri e i miei cari colleghi candidati sindaci ad andare a vedere e soprattutto il Movimento 5 Stelle ha fatto una lotta con le interrogazioni parlamentari sulla questione dell'ACOSET far parte di un consorzio significa che noi non siamo proprietari della rete idrica noi ci siamo consorziati e quindi noi dobbiamo insistere come è fatto per avere la garanzia della qualità dell'acqua e soprattutto non avere disservizi lo facciamo giornalmente lo faremo facendoci sentire nell'assemblea e facendoci sentire anche con azioni forti che possono essere declarazioni parlamentari ma sono anche le costanti denunce anche penali che ho fatto per interruzione di pubblico servizio a chi gestisce il consorzio Siamo in battute finale ovviamente per gli altri candidati vuole dire qualcosa? Ovviamente quando io alludevo al piano regolatore è normale che mi riferissi a Santa Maria d'Astella credo pure che è vero che si stia costruendo nel nostro territorio ma sfido chiunque a venire a Regisandone e vedere che lì dove si sta costruendo quali servizi si stanno dando ai cittadini io mi permetto di dire zero infatti la gente critica questo il fatto che si costruisca si fanno belle ville però praticamente non resta niente alle persone quindi la mia contestazione è vero che si costruisce ma è vero che non si danno servizi e questo è un dato di fatto Grazie Chiudiamo? Andiamo a chiudere? No, si chiudo ricordando ai cittadini che il Movimento 5 Stelle che si appresta fra l'altro a formare un governo nazionale sta dando grande dimostrazione di maturità politica non so se vi ricordate 5 anni fa quando appunto arrivarono tutti questi deputati e senatori in Parlamento magari si scherzava su però grazie a loro molte cose sono state tirate fuori ora i cittadini conoscono molto di più sui benefici che i parlamentari avevano solo ed esclusivamente per loro e per i loro partiti per cui invito i cittadini a fare lo stesso ad ACI San Antonio noi vogliamo dei portavoce all'interno del Consiglio Comunale li desideriamo insieme a voi perché soltanto noi riusciamo a tirar fuori quello che non va perché noi non abbiamo interessi né di partito né personale e chiudiamo con Michaelizzi questo lo potete dire insomma potete dirlo anche senza a voce alta potete dirlo allora tengo a sottolineare non è demagogia quella dell'acqua sappiamo che facciamo parte di un consorzio purtroppo io parto da quello che potrebbe essere forse il mio mestiere il militare mi è stato sempre insegnato che ad un problema c'è sempre una soluzione per cui sicuramente un plauso per tutto quello che avete fatto perché so che avete fatto denunce abbiamo seguito noi in primis questa faccenda però fondamentalmente è un qualcosa che deve trovare una soluzione perché nel 2018 è impossibile avere un consorzio che da la qualità dell'acqua ma non da la quantità di acqua per cui sicuramente non saremo noi sarete voi sicuramente sarà qualcun altro ma sarà un punto da dover attenzionare perché il cittadino ha e deve avere quelli che sono i servizi di base l'acqua è uno di quelli Bene, comunque la questione ACO7 è una questione abbastanza vasta che meriterebbe una puntata a parte solo per il consorzio e per le problematiche che purtroppo in qualche maniera coinvolge tutti i comuni che fanno parte del consorzio poi ovviamente ci possono essere più impegni meno impegni da parte delle amministrazioni che fanno parte di questo consorzio lo giudicheranno ovviamente i cittadini che il 10 giugno andranno alle urne io vi auguro ovviamente a tutti buon lavoro una sana e giusta competizione appuntamento con voi ovviamente il 10 giugno con i vostri elettori e con noi alla prossima volta sempre con elezioni amministrative 2018 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti